So, vorrei adesso presentarvi una persona che fa parte del nostro show questa sera come ospite e si dà il caso che questo ragazzo sia nato a casa mia e a casa di Albano e quindi una certa parentela c'è, perché questo ragazzo ha per nome Yari Carrisi ed è nostro figlio ed è qui stasera a cantare No, sorry, you're on the other side I'm good, how are you? I'm good, I'm good All right, I'll leave you the stage, ti lascio il parco scenico, è tutto tuo Yari Caprizzi Good evening This beautiful song by Leonard Cohen is Heard there was a secret chord David played in it Please oh Lord You don't really care for music, do you? It goes like this Forth to fill Mindful nature Live Baffled king composing Hallelujah 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 Heard there was a story and you needed proof You saw her bathe in a warm room Beautiful light, oh yeah Eiffi Tied you to kitchen chairs posted to the kitchen chairs Kitchin chairs Broken throne Cut your head From your head To the heart Hallelujah 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti